Fai! 3 minuti 3 minuti Gira, gira Fuori Vai! Non ti schiacciare Tu lavori Bravo, bravo Occhio al ponte Stati lì Gira, gira Tranquillo Tranquillo, tranquillo André Mancare un po', poi vai su Qui su e scai Vai, vai Vai su in postura Spingi sulla soffa Sali con le ginocchia Sali con le ginocchia Sali con le ginocchia Sali con le ginocchia Vai, 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 tira André Come se fai una somma Tira, tirala, tirala Andrea, sai la difesa Sai la difesa Prenditi Tira giù la testa In piedi In piedi bravo Mettiti Eccolo là Eccolo là Tira giù la testa Buone! Grazie 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 Grazie